Sei chi ha passato di tutto? Se non riavrò i miei soldi entro venerdì, vengo a cercarti. E chi non ha mai visto niente? Lei ha passato quasi tutta la sua vita segregata dentro una casa. Per caso si incontrano? Si sposa tuo fratello a giorni, vero? Tutti sono felici e strafferai un assegno a tuo padre. Io vengo con te. Ho incontrato una ragazza. Portala al matrimonio. Ci saremo. Che cosa può succedere? Lei è Bessie. Siamo al sud, pertanto avrete due stanze. Io non starei mai in camera con un uomo. A piedi nudi. Mercoledì in prima serata, sulla 5.